Cristina Marchesi, vicepresidente dell'Asso Stampa di Padova, giornalista. L'hotel come impresa del gusto, cosa le pare di questa iniziativa? Trovo che l'iniziativa sia pregevole e che dovrebbe diffondersi in tutta l'area delle terme, che ha bisogno di iniziative nuove, ma in particolare ha bisogno di cambiare nella ristorazione. La clientela oggi non chiede più di essere piena, di avere il tavolo pieno di cibo, ma avere il cibo adeguato, con un sapore particolare e ricercare l'hotel proprio per il cibo. Quindi sarà un valore aggiunto per gli hotel che vorranno seguire questa linea. Grazie.